Ciao a tutti! Allora, oggi... Single paradiddle, double paradiddle, in sedicesimi, 70 bpm, in terzine, contando... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Ogni otto battute. Ogni esercizio, otto battute. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... cambio, ok? Quindi, single paradiddle, double paradiddle, in sedicesimi. Ok? Pronti? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Double! Double Double Single Double Double Single Un, due, tre 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 Grazie.